Splendido il suggerimento in verticale in occasione del gol, come evidenziano bene queste immagini. Ha mantenuto la lucidità necessaria per piazzarla alle spalle del portiere che non poteva far niente qui. Ci sono gol e gol pie. Questo è un super gol. Le immagini parlano chiaro. Non so in quanti avrebbero trovato la porta da quella distanza. Il replay ci permette di apprezzare meglio la giocata con cui si è liberato del difensore. Colpo di testa che ha infilato il portiere imparabilmente. Grazie a tutti. Niente da fare. Il difensore recupera. Scelgono ancora il tiki-taka. Gran dribbling. Palla che colpisce la traversa e torna in campo. Azione che... Cross calibrato al millimetro come evidenziato da questo replay. Bisognava solo spingerla dentro. Un'esecuzione al volo perfetta da mostrare ai bambini delle scuole calcio. Molto bella. mister che può dirsi felice dalla prestazione della squadra. Altro gol e vantaggio che si allarga. ha segnato un gol pazzesco. Una rovesciata d'applausi. Le immagini del replay, eccole qui. È immortalare un gesto tecnico che rivedremo spesso negli highlight di questa stagione. La regia ci ripropone qui l'azione del gol. Tutto è nato da questo cross calibrato e perfetto. colpo di testa che ha infilato il portiere imparabilmente.